Benvenuti a Camera di Commercio News. Parliamo di proprietà industriale e tutela di marchi e brevetti. In Camera di Commercio di Torino è possibile ricevere informazioni sulle modalità di deposito e richiedere ricerche di anteriorità. Sentiamo. Il settore tutela brevetti, disegni e modelli e naturalmente i marchi per contraddistinguere prodotti e servizi. A Torino si depositano ancora ogni anno 4.000 marchi e oltre 1.000 brevetti pari all'8% dei depositi italiani. Per diffondere la cultura brevettuale presso imprenditori, ricercatori e studenti, la Camera, attraverso il centro Patlib, realizza seminari tematici e workshop sempre affollatissimi. Inoltre realizza anche ricerche di anteriorità per rintracciare un brevetto, un marchio, un modello industriale o ricerche di mercato in qualunque settore tecnologico. È possibile così identificare le tendenze di evoluzione tecnologica, verificare l'attività della concorrenza, proteggere i propri prodotti da contraffazione e imitazioni in paesi stranieri e anche individuare possibili partner commerciali. Marchi e brevetti si possono depositare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure è possibile ricevere informazioni su appuntamento. È tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.